Le caratteristiche... Ben 193 gli eventi che spalmati in tutta l'estate faranno da cornice alla stagione turistica che la città di Fano si appresta a vivere. 42 in più dell'anno scorso e se consideriamo il periodo maggio-dicembre arriviamo a un totale di 446. Un'estate da numeri, sottolinea senza esitazioni il sindaco Massimo Seri nella conferenza stampa di presentazione all'OIAT di Fano. I punti cardine di questo programma sono 4-5 eventi portanti attorno ai quali si frappongono eventi minori per portata ma non per importanza. Il Carnival Jets, il Paese dei Balocchi in tour nella città, la rassegna Fano Jets by the Sea che apre con un pezzo da 90, la cantante israeliana Noah in piazza 20 settembre e poi non possono mancare i festival. Primo fra tutti passaggi il festival della letteratura che grazie all'inserimento nel circuito nazionale librerie e cop ha portato Fano a milioni di utenti. E poi il festival del Brodetto che con la sua internazionalità mostra la nostra cultura gastronomica nel mondo. Io la definirei un'estate da numeri perché veramente quest'anno sono grandi numeri, tante iniziative ma anche di qualità. E se vogliamo fare un raffronto anche rispetto all'attività estiva dello Scorsone ci sono 42 eventi in più. Sono da giugno a dicembre 446 iniziative ma che se poi andiamo a considerare tutte quelle piccole diventano tante di più. Per offrire un ventaglio per tutti i gusti, per tutte le età, per tutti coloro che decideranno di trascorrere le vacanze nella nostra città ma anche per tutti coloro che vivono la città, che vivono i comuni dintorno a Fano. Detto questo poi potrebbe arrivare anche qualche sorpresa di qualità che stimolerà l'estate fanese. Quindi veramente un'estate da numeri con tanti eventi e tante iniziative. Per guidare cittadini e turisti in questa Babilonia di eventi è stata presisposta una guida attascabile che permetterà di tenere sott'occhio tutti gli eventi giorno per giorno. Sarà un'estate molto viva, ricca di opportunità di diverso tipo. Nel Deppian che abbiamo preparato, che segue l'anteprima di primavera che abbiamo fatto per le fiere, che è stato il primo strumento di promozione. Questo diciamo che è uno strumento di accoglienza. Abbiamo fatto 300 contenitori, potranno essere distribuiti a tutti gli operatori di spiaggia, gli albergatori, i commercianti più coinvolti nel tessuto turistico. Poi se è il caso ne faremo di più, perché in un agile strumento da banco si potrà prendere un libricino che si può conservare per tutta l'estate, utile per il turista per sapere che cosa c'è in quella data, in quella serata, ma anche utile al cittadino. Se vogliamo stigmatizzare l'estate o questo programma, a cosa strizza l'occhio di più? Ma diciamo che strizza l'occhio a un turista che voglia acqua pulita. Noi siamo bandiera blu e bandiera verde per i bambini. Si fa una bella giornata di mare, quando è verso le 6 si può prendere un bel aperitivo nelle fresche vie del centro storico, ascoltare un dibattito culturale, sentire un concerto, vedere una commedia divertente, andare a teatro a sentire il gezzo nelle location come San Francesco che riapriamo rinnovato, vedere una mostra, la bellissima chiedere San Pietro in valle e riapriamo anche la saletta Nolfi. Quindi è una città da scoprire per tanti gusti. in valle, quindi torna anche il contemporaneo.